è in programma il prossimo 14 giugno con inizio a partire dalle ore 10 sapere salute per gli anziani iniziativa dell'asra salerno in collaborazione con il comune di agropoli si terrà presso l'aula consigliare alfonso di filippo l'incontro a quale obiettivo la sensibilizzazione della comunità all'adozione di sani stili di vita attraverso incontri con medici specialisti si propone di raggiungere un target fragile particolarmente colpito dall'emergenza covid 19 l'emergenza sanitaria ha messo in secondo piano molte patologie dell'anziano e non solo creando un differimento delle cure mediche la chiusura forzata ha comportato una significativa riduzione del livello di attività fisica con conseguenze negative in particolare nei soggetti affetti da osteoporosi artrosi diabete mellito malattie cardiovascolari sapere salute non vuole essere un intervento isolato di prevenzione e promozione ma attraverso una giornata dedicata alla salute si vuole dare il via ad una serie di buone prassi portando in luoghi non sanitari l'attività di educazione alla salute